Dunque, che dire, è la fine di un percorso e sono a quanto emozionato, peraltro, più della presentazione probabilmente. Vorrei ringraziare lo staff, portando dal presidente, passando per i direttori, i tutor soprattutto, Cinzia ovviamente, e Doralisa. Ringrazio anche i miei compagni di corso, il project manager e i fundraiser. Soprattutto i miei compagni di squadra, che sono The Phenomenon. Siamo una squadra fenomenale, ho capito questo. E abbiamo imparato soprattutto a lavorare e a confrontarci in maniera molto costruttiva. E vorrei contredirvi di continuare così, perché qui dentro c'è tantissimo materiale umano. E continuate su questa strada, perché a prescindere da quello che vi dirà il futuro, voi siete grandissime persone.